ci siamo ci siamo rispondiamo finalmente alla domanda che continuate a farci che noi continuiamo ad evitare qual è stato il vostro viaggio più bello e noi ogni volta a esclusione dell'australia bla 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 ma perché a esclusione dell'australia beh perché l'australia è un viaggio è stato un po imbattibile sì sotto moltissimi punti di vista ma partiamo dal principio perché forse non tutti quelli che stanno guardando questo video non tutti quelli che negli anni sono arrivati al nostro canale sanno che effettivamente l'australia è stato il nostro primo vero viaggio che ha avviato un po tutto il nostro canale e la nostra attività di travel blog prima di quello c'erano solo dei video imbarazzanti fatti da casa che lasciamo lì in un angolo anche se sono parte della nostra storia e quel viaggio in australia è stato possibile solo grazie al working holiday visa ma cos'è il working holiday visa è un visto particolare per entrare in australia diverso dal visto turistico che dura solo tre mesi il working holiday visa è valido per un anno e consente di lavorare effettivamente in regola nel paese in modo da potersi finanziare il viaggio quindi per questo working holiday visa ora è passato un po di tempo dal nostro viaggio in australia quindi perché stiamo facendo ora questo video lo stiamo facendo perché comunque continuano ad arrivare richieste da parte vostra interessati ad andare in australia soprattutto nel periodo 2020 2021 ne sono arrivate parecchie perché giustamente non si poteva viaggiare e quindi qualcuno di voi si è ritrovato a dire ok ma io ho fatto la richiesta e però adesso non posso andare cosa succede ebbene ci sono degli aggiornamenti e in collaborazione con l'ente del turismo stiamo facendo questo video proprio per portarvi queste novità e tranquillizzare qualcuno di voi un requisito necessario per richiedere questo visto era il limite di età dai 18 ai 30 anni e qualcuno si era preoccupato perché appunto ok ho raggiunto i 30 anni ora non posso viaggiare come farò ottime notizie per voi ragazzi perché il visto dal primo luglio di quest'anno sarà proprio allargato anche alle persone che hanno 35 anni fino a 35 anni quindi se il vostro sogno andare in australia col working holiday visa e fare un'esperienza fantastica potete ancora realizzarlo esatto e siamo contentissimi di questa cosa perché veramente in tanti ci avete scritto mio dio io volevo farlo e adesso non potrò più e invece si potrà fare di nuovo e siamo felicissimi per tutti voi perché è stato un viaggio che veramente wow e speriamo che possiate fare la stessa esperienza per gli altri requisiti che servono per richiedere questo visto vi lasciamo il link ufficiale così almeno è sempre aggiornato perché noi non lo siamo perché l'abbiamo fatto qualche anno fa non lo stiamo rifacendo quindi non siamo sempre aggiornati su su tutto quello che serve nello specifico ma quell'inclì lo è vi diciamo però perché questo viaggio è stato quello più bello finora fatto e che sarà difficile da battermi sa decisamente quando parliamo di viaggio più bello mai fatto non ci riferiamo a un posto specifico all'australia ma tanto all'esperienza che abbiamo vissuto infatti l'australia è molto diversa è gigantesca tanto per cominciare ma è anche molto diversa da regione a regione da posto a posto è proprio il tipo di esperienza che secondo noi è imbattibile proprio per come l'abbiamo vissuta sì infatti abbiamo visto tantissimi posti bellissimi del mondo quello veramente non riusciamo a fare una classifica ma a rendere diverso il viaggio in australe è stata proprio l'esperienza e parte di questa esperienza è stata dovuta proprio al tempo che abbiamo potuto dedicarci perché siamo potuti stare lì un anno e questo ci ha dato il tempo di raggiungere posti che altrimenti non avremmo potuto raggiungere viste le grandi distanze e il tempo per dedicare a ogni posto che volevamo vedere il giusto tempo quante volte ho detto tempo il tempo è importante per questo che vi danno 12 mesi già da diversi anni prima di effettivamente andare in australia c'erano dei posti che guardavamo con gli occhi a cuoricino sperando un giorno di poterli vedere ma verosimilmente era difficile perché comunque con un'esperienza turistica che di solito può durare due tre settimane al massimo quattro difficilmente si possono raggiungere determinati punti in australia perché sono molto isolati molto distanti dalle città principali e quindi era più una roba vabbè esiste quella cosa chissà invece avendo 12 mesi di tempo noi abbiamo fatto letteralmente tutto il giro dell'australia potendo vedere veramente tutto quello che volevamo e nelle stagioni giuste e nelle stagioni giuste si rincorrendo il bel tempo la bella stagione ovviamente ognuno viaggia come vuole se volete potete andare lì e stare tutto il tempo in una sola zona ma per noi tutto quel tempo si è tradotto in un sacco di strada e in tantissimi posti visti eh sì molti dei quali ci hanno anche veramente stupito per la bellezza posti diversi da quello che sono il classico immaginario australiano col deserto rosso e il nulla cosmico ad esempio la tasmania è stata per noi una bellissima scoperta ci abbiamo passato circa un mese girandola in lungo in largo perché ha dei paesaggi veramente stupendi maria island è stato uno proprio che veramente ci ha stupito e abbiamo visto un diavolo della tasmania in libertà fantastico fanno poverissima tra l'altro quando urlano fanno veramente paura però sono molto carini e siamo contentissimi di averli visti dopo la tasmania siamo risaliti lungo la costa est quella un po più famosa se si vuol dire con sydney e le sue blue mountains molto suggestive e poi risalendo piano piano lungo la gold coast surpassata brisbane in realtà già lì ci sono state alcune sorprese come i vermi bioluminescenti fantastici poi comunque ci sono altri paesaggi che vabbè sono molto più famosi e iconici come le wet sundays islands c'è paradiso stupende e invece più su sopra cames c'è la foresta pluviale che arriva sulla spiaggia e incontra l'oceano anche lì bellissimo lì c'è anche la grande barriera corallina esperienza stupenda da fare e da lì poi siamo rientrati nell'entroterra attraversando tutto il queensland per arrivare nei territori del nord dove il paesaggio effettivamente è quello un po più tipico australiano che ci si aspetta però anche lì abbiamo visto delle cose un po particolari perché abbiamo avuto il tempo di fare delle tappe un po più strane per esempio c'è una piana con tutte le impronte di dinosauro fossilizzate siamo andati sia al cacadu che al carigini national park di solito nei viaggi turistici se ne fa uno solo ma sono entrambi stupendi e vale la pena passare diversi giorni in ognuno di quelli e poi siamo scesi ovviamente fino a loro perché quella è una tappa immancabile e non puoi saltarla ma anche lì una cosa bellissima e molto così piccola nel senso che non è un highlight del viaggio ma è un posto che continuiamo a dire cavolo come vorrei essere lì ogni tanto ce lo diciamo sono le bitter springs di mataranca queste terme naturali con acqua calda in mezzo a questa foresta tropicale veramente che poi è un osi perché poi intorno a questa piccola foresta tropicale c'è il deserto di nuovo quindi bellissimo abbiamo poi raggiunto i paesaggi alieni della costa ovest ad esempio il pinnacle desert che è questo deserto giallissimo con questi appunto pinnacoli che vengono fuori che ancora non è chiaro esattamente cosa siano c'è il lago rosa la spiaggia di conchiglie il the wave che è una roccia a forma di onda l'isola dei cuocca rottenness island bellissimo e anche lì anche quella è una zona che spesso viene saltata nei tour più classici proprio perché le distanze sono assurdicole assurdicole ma ogni cosa che abbiamo visto lì c'ha proprio wow solo wow una delle emozioni più forti però vissute su lake ballard un lago disperso nel mezzo del nulla lago secco ormai quando però piove si forma questa questa magia ragazzi non sappiamo davvero come come descriverla è stato una delle emozioni più forti del viaggio e lì è cominciata anche la nostra tradizione del portare la pioggia ovunque anche nel deserto giusto è stato lì iniziata proprio lì prima di rientrare a melbourne per completare il giro abbiamo anche nuotato con i leoni marini un'altra esperienza fantastica e abbiamo ovviamente fatto la grete ocean road immancabile bellissima con i suoi 12 apostoli generalmente però appunto la grete ocean road viene dedicata una giornata intera o due giornate per chi proprio vuole fare qualcosa in più noi ci abbiamo messo cinque giorni un po perché ha piovuto anche lì ma un po' perché abbiamo voluto fermarci in ogni benedetto punto di avvistamento perché la costa lì è bellissima si è stupenda ci sono tante cose oltre le 12 apostoli che magari le persone non conoscono tra l'altro di tutte queste cose di cui stiamo parlando ci sono dei video ovviamente non sono fantastici perché ci rendiamo conto che abbiamo cominciato lì e quindi nel senso non sono come quelli che facciamo adesso però i posti comunque merita nonostante le nostre scarse capacità di allora esatto ma dopo questo grande riassunto di tutti i posti che abbiamo visto come li abbiamo visti come ci siamo spostati diciamo che questo viaggio spesso viene categorizzato come backpacker un viaggio da backpacker e si può fare anche zen in spalla autostop o comunque ci sono dei gruppi facebook credo che aiutino le persone a mettersi in contatto per viaggiare in questo modo ma non è decisamente il nostro per noi il viaggio in australia è proprio stato un viaggio di libertà e quindi abbiamo viaggiato col nostro van abbiamo comprato il nostro van vanilla l'abbiamo arredato noi e avevamo tutto quello che ci serviva sempre con noi questo veramente per noi significava libertà potevamo andare dove volevamo quando volevamo starci il tempo che volevamo eravamo stanchi ci fermavamo a dormire avevamo fame ci fermavamo a mangiare avevamo la nostra casa sempre con noi e questo ci ha anche aiutato a raggiungere tutti quei posti un po lontani un po isolati che vi dicevamo ci sono state notti dove eravamo da soli in un posto a lake ballard per esempio eravamo gli unici lì non c'era nessun altro è stato spettacolare c'è anche da dire che è facile viaggiare in australia con un van o con un camper perché gli stessi australiani viaggiano in questo modo dopo una certa età ci sono i grey nomads quindi i pensionati che molti vendono la casa per prendersi questi giganteschi camper e girare così il paese quindi l'australia è piena di queste aree dedicate ai camperisti e quindi per noi è stato veramente super super facile pensavamo fosse più difficile eravamo preoccupati come ci facciamo la doccia dove mangiamo come invece è pieno di come si chiamano quei cosi per fare le griglie elettriche aree con le griglie pubbliche si sia nelle città che in giro in molti campi proprio anche nel deserto dove ci si può fermare col van ci sono le griglie per fare appunto per cucinare qualcosa quelle vere però con la legna vera la doccia non è un problema perché ci sono un sacco di stazioni di servizio e quindi non abbiamo mai dovuto usare le nostre docce solari per fortuna comprate ma in realtà mai usate quindi è molto semplice in realtà è molto meno complicato di quello che si pensa e infine parliamo un po dell'esperienza lavorativa che per noi in realtà viene un po in secondo piano perché noi eravamo andati per girare il paese ci siamo ovviamente fermati a lavorare diverse volte per esempio i primi tre mesi li abbiamo passati fermi a melbourne a lavorare un altro periodo abbastanza lungo a lavorare l'abbiamo fatto a brisbane anche per aspettare un po una stagione migliore per visitare i nord e in territorio e la zona centrale dell'australia ma cercare lavoro è abbastanza semplice ma non così semplice come alcuni dicevano che sarebbe stato quando siamo andati noi nel senso c'era la leggenda che tu camminavi per strada e c'era la gente che ti fermava vieni a lavorare per me ok non è così bisogna prima di tutto cercarselo il lavoro e poi magari saper parlare un pochino di inglese aiuta diciamo che ragazzi se volete andare a lavorare in australia dovete mettervi nei panni di chi vi deve assumere quindi voi dovete essere in grado di capire quello che il datore di lavoro vi sta dicendo quello che un cliente vi sta chiedendo e sapere intrattenere una conversazione basica ok quindi noi siamo andati lì con l'inglese scolastico ed è stato sufficiente anche perché comunque durante i primi tre mesi a melbourne abbiamo vissuto in casa con una signora australiana avevamo la camera in affitto a casa sua quindi è stato diciamo un periodo di assestamento il nostro a melbourne nel quale appunto abbiamo anche lavorato quindi ci è stato un po' facilitato questo ingresso d'altro canto ragazzi non pensate di andare senza parlare neanche una parola d'inglese questa cosa non esiste poi ovviamente lì lo si impara però se volete già cominciare a lavorare dovete almeno le basi conoscerle almeno per fare anche solo il lavapiatti nel senso lava il piatto lo devi capire parlando proprio di che tipo di lavori allora noi abbiamo fatto sia lavori nella ristorazione nelle città camerieri eccetera ma abbiamo anche fatto i lavori nelle farm quando eravamo un po più distanti dalle città abbiamo raccolto le mele le pere abbiamo raccolto l'uva in tasmania e diciamo che questi sono i lavori in cui secondo noi si può trovare con più facilità un posto proprio perché c'è molto ricambio sì ma non è detto che dobbiate per forza fare questo tipo avete studiato qualcosa come che ne so ingegneria e volete cercare lavoro nel vostro campo di studi potete sicuramente farlo è ovvio che però qui l'inglese dovete conoscerlo sicuramente meglio e le tempistiche richieste della vostra permanenza non sono di settimane ma magari sono di qualche mese esatto bisogna un po capire cosa si vuole fare per noi l'importante era girare tutta l'Australia vedere più cose possibili quindi abbiamo scelto dei tipi di lavori che potessero impegnarci anche solo poche settimane infatti lì le paghe vanno a settimana non a mese quindi magari state in un posto due settimane dovete dare il cambio a qualcuno che è malato vi prendono vi tengono due settimane e poi potete proseguire il vostro viaggio ovviamente questo può funzionare in campi dove non è richiesta una formazione altissima lunghissima non è che ci devono mettere un mese a insegnarvi quello che potete fare voi potete stare lì due settimane ma per noi è stato anche un ottimo inizio per il nostro lavoro di videomaker infatti rispondiamo un'altra domanda che spesso ci fate è dove avete imparato a fare foto e video avete fatto corsi noi abbiamo imparato sul campo e la nostra prima gavetta è stata in Australia le avevamo sempre macchina fotografica in mano quindi facciamo sempre video e abbiamo imparato lì moltissime cose poi ovviamente negli anni si imparano altre negli impagni e poi basta però questa cosa ci ha aiutato quando siamo tornati a casa a trovare lavoro come videomaker all'inizio ancora prima di fare travel vlogger di professione quando siamo tornati dall'Australia abbiamo fatto i videomaker sì e questo perché grazie alle competenze acquisite in Australia quindi sul campo noi come videomaker ovviamente la lingua che sicuramente era migliorata tantissimo ma anche per una cosa psicologica nel senso il tuo datore di lavoro pensa ok questi sono andati in Australia un anno se la sono cavate in un altro paese dove non conoscevano niente dove non conoscevano la lingua e tutto e li hanno assunti ok cioè ci sanno fare è una marcia in più comunque qualcosa che secondo me sul curriculum fa sempre bella figura comunque nonostante ha dato il via alla nostra vita di adesso secondo me i posti così non lo so rimangono nella mia top motivazione del perché il viaggio in Australia è stato il più bello se voi andrete in Australia se ci siete già stati o se andrete in Australia fateci sapere qual è la vostra esperienza se pensate che possa essere ripetuta da qualche altra parte oppure se come per noi almeno fino a questo momento è stata un'esperienza ancora imbattuta nonostante tutti i posti meravigliosi visti e le esperienze meravigliose e fantastiche fatte noi vi ringraziamo per aver guardato questo video vi lasciamo qui il montaggio di tutto il viaggio in Australia se volete dargli un'occhiata e ci vediamo al prossimo video e al prossimo viaggio e un applauso per il calzino artengo sul microfono